buonasera a tutti ragazzi vi saluto come sempre sono mor e vi sto parlando dal senegal un saluto a tutta la comunità senegalese e africana tutta la diaspora che vive sul territorio italiano ma faccio un applauso forte a tutti i follower che si stanno sempre seguendo sui nostri canali youtube e facebook oggi ragazzi parleremo esclusivamente del decreto aiuti avete visto che un decreto che è stato varato il 17 maggio scorso modificato il 2 di maggio e il 5 adesso ragazzi il decreto è entrato in gazzetta ufficiale da ieri ci sono delle novità come avete visto che per ancora per la terza volta è stata allargata la platea dei beneficiari quindi oggi vi parlerò di tutte le categorie di lavoratori ma tutti tutte le nuove persone che possono fare la domanda perché il decreto aiuti da ieri è in gazzetta ufficiale ora stiamo aspettando un decreto che viene del ministro del lavoro e un circolare ims per chiarire sulla modalità delle domande e le indicazioni oggi parleremo delle nuove platea di beneficiari ma anche parleremo di tutte le persone lavoratori disoccupati per settori di ma anche parleremo della domanda il decreto aiuti il decreto aiuti il decreto aiuti il decreto aiuti двungi di lavoro per pesanti inabilità di lavoro autonomi non il decreto' abbiamo ricevuto il decreto aiutiạnh 200 euro per pensiozziare per pensiazioni e di lavoro utono e dell'attune quando erano delle domande e delle abbiamo un decreto che spostse all'apprezzato è edifici della domanda dalla Vaticatrice e di trabalhatori autonomi Quindi abbiamo discutito sulle le bine, il 5 mei passato, abbiamo fatto un'efficienza che si chiama il nostro canale, dove si chiama il territorio di salinanza, lavoratori stagionali, intermitenti, e incaricati alle vendite a porta porta, da lo spectacolo, vendite a domicilio, e che si chiama il nostro canale, e che si chiama il agricole, dove si chiama il nostro canale e si chiama il nostro canale. E quindi prima che abbiamo pubblicato il decreto, poi abbiamo pubblicato il decreto e contro, ma ciò che si chiama il nostro canale è. Se iniziare, ci si chiamano il salito, ci si chiama il nostro canale, si chiama il laboratorio di quattro, ci sono stati lavori e botti. I domani il nostro canale, si chiama il nostro canale, si chiama il nostro canale, si mette un bonus osnicopensivo, da 2400 ore, Il visto che il nostro corso che ha fatto il DCF e il nostro corso di più e il nostro corso di giustizia e il nostro corso di 100 euro per la legge del lavoro. Grazie a tutti i nostri amici 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.